Che il mondiale ormai sia andato totalmente nelle mani di Red Bull è un dato di fatto, ma c'è modo e modo di regalare un titolo ridato al tuo avversario. Ieri amici è successo qualcosa che ha dell'ispiegabile. Non trovo le parole per poter esprimere nella maniera più opportuna tutto il mio disappunto e tutta la mia rabbia per una strategia di gara che credo abbia spento il sogno mondiale per Leclerc definitivamente. Ho sempre creduto e sperato in scuderia Ferrari con tutto me stesso, ma dopo quanto visto ieri sul circuito Magiaro, anche se la matematica ancora non assegna il titolo, ragazzi, qui c'è da fare ben poco ormai. Vi lascio ascoltare l'audio e leggere la traduzione di questo video Team Radio, che non avrei mai voluto caricare sul mio canale. Credo che non serva aggiungere altro. per quanto riguarda l'avversario, per quanto riguarda l'avversario, per quanto riguarda l'avversario. Era l'elemento per tutti o era l'elemento solo per noi? Credo che era lo stesso per tutti, con il heart. Per quanto riguardavamo l'avversario? Cosa era la ragazza? Per quanto riguarda l'avversario? Ok. Per quanto riguarda l'avversario, per quanto riguarda l'avversario? Ok.